La nave politica di Ivan Costantini, candidato sindaco di Giulianova, è salpata questa mattina. Ufficializzate le sei liste d'appoggio con 96 candidati schierati a sostegno di questo nuovo polo civico. Imprenditori, libero professionisti, operatori turistici si sono ritrovati a condividere il programma di Costantini che dopo un lungo percorso politico con Forza Italia ha scelto il civismo. Mi è stato chiesto di scegliere tra un simbolo di partito e la mia cittadinanza e non ho avuto dubbio ho scelto la mia cittadinanza. Le garanzie programmatiche che c'erano nell'area di centrodestra non proponevano il cambiamento per cui ci siamo battuti per cinque anni e in questo momento vorrei essere il sindaco di tutti e non solo di una parte dei giuliesi. Lei ha unito intorno a sé sei liste, 96 candidati, ma chi sono? Sono persone che arrivano da società civile, liberi cittadini che tante volte non ci hanno messo la faccia e questa volta hanno deciso di farlo perché da cinque anni ci sporchiamo le scarpe nel fango della nostra città per migliorarla e hanno creduto nel nostro programma e nel nostro progetto politico. Quali sono le linee programmatiche più importanti del suo programma? Noi abbiamo da tempo parlato del problema della macchina amministrativa, va assolutamente rimodulata tutta la macchina amministrativa, vogliamo un comune a disposizione della cittadinanza, il turismo, gli ingressi di Giulianova, il decoro urbano. Abbiamo un programma che è circa 60 pagine quindi c'è tanto da fare, dobbiamo iniziare, dobbiamo corciarci le maniche e metterci a disposizione della nostra città. Quindi lei non è né di centrodestra né di centrosinistra, è un civico. Cosa vuole dire ai Giuliesi? Voglio dire che un'idea giusta non è né di destra né di sinistra, un'idea giusta è un'idea giusta e basta. Siamo qui per rappresentare tutti e non rappresentare solo una parte dello scacchiere politico a Giulianova. La squadra di Ivan Costantini si è presentata alla cittadinanza Giuliese sulla bella terrazza dell'hotel Europa. Ad introdurre il candidato sindaco sono stati il procuratore di basket Ernesto Ciafardoni e Lidia Albani. Tra i candidati a sostegno di Costantini anche Paolo Vasanella, ex coordinatore di Fratelli d'Italia, che non ha accettato il diktat della Lega.